I carabinieri della stazione 10 catena hanno arrestato Luigi Buongiorno, 30 anni, pregiudicato catanese per furto aggravato. Ieri notte una pattuglia di carabinieri durante un servizio di controllo del territorio ha bloccato l'uomo in via Olivo San Mauro, mentre era all'interno di una moto Ape Piaggio, rubata poco prima in via 4 Novembre, con un altro complice che alla vista dei militari è scappato dandosi alla fuga. Le indagini sono ancora in corso al fine di identificare il fuggitivo. L'arrestato è stato tradotto ai domiciliari su disposizione dall'autorità giudiziaria.